25 febbraio 2020, 25 febbraio 2021. È passato un anno dal primo caso di Covid-19 diagnosticato nella provincia di Pesaro Urbino. Un anno fa, appena una settimana dopo il paziente 1 di Codogno, arrivava nel pesarese il tampone positivo di Michele Lamberta, 29enne, oggi residente a Piacenza e prima a Vallefoglia, dove vive tuttora la famiglia e dove Michele ha risieduto dal 2000 al 2018. Paziente 1 della nostra provincia ma anche delle Marche. Michele all'epoca accusò febbre da metà febbraio ma allora si era ancora nel periodo in cui si vedeva il coronavirus come uno spettro che alleggiava dalla lontana Wuhan in Cina. Un giorno dopo il primo caso di Vallefoglia arrivò anche il primo ricovero per una pandemia all'ospedale di Fano. Pandemia che un anno dopo ha visto contagiati al Covid-19 65.785 marchigiani, di cui 14.658 nella provincia di Pesaro Urbino. Secondo il Servizio Sanitario Regionale, sono 53.500 le persone dimesse e guarite dal 25 febbraio di un anno fa ad oggi. Ma le Marche in un anno hanno pagato il prezzo salato di 2.219 morti, di cui 1.257 uomini e 962 donne. L'età media dei decessi è di 82 anni e il 96% dei morti presentava un quadro clinico di patologie pregresse. Un anno dopo si continua a viaggiare con il timore di una terza ondata e non aiuta il fatto che oggi si sia registrato il numero più alto di contagi del 2021. 732 casi su 5.625 nuove diagnosi, su un totale di 7.870 tamponi con un'incidenza tamponi positivi del 13%. A fare da traino in questo 2021 è sempre la provincia di Ancona con 301 casi nella giornata di oggi. Più stabile il pesarese con 83 nuovi casi.